Musica Mercoledì 25 gennaio Radio 00 ha partecipato alla conferenza stampa sulla città metropolitana un progetto che parte dal sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio che comprende il recupero delle aree morte del paese con ambienti dedicati ai più piccoli. Il progetto comprende l'area del parco regionale di Lama Balice al momento molto discusso per alcune polemiche sulle nomine dell'ente sollevate dal consigliere del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale Mario Conca. Il sindaco Abbaticchio come componente del parco concorda con la necessità di affidare le consulenze tecniche gratuite con avviso pubblico e si fa promotore di questa mozione.